Ma allora lo fa apposta, scusa Certo che lo faccia apposta, eh Che ora sono? Sei un quarto Andiamo al cinema Ma lei è cieco, non può andare al cinema E per questo ti pago, tu guardi e mi spieghi Vabbè, che film vuole andare a vedere? Le calde labbra di Erika Un film vietatissimo ai minori di 18 anni Dove lo fanno? Lo fanno al fantasy Eh, non so dov'è E ti porto io, vieni Vieni con me, vieni Vieni appresso a me, non ti preoccupare Cammina, cammina, cammina che facciamo tardi Cammina, cammina Attendo che c'è un albero Eh, l'ho visto, non sono cieco